Ragazzi, blog, si blog, vabbè, vlog flash, tanto mi si vede lo sesso un pochettino, si dai, si Vlog flash al buio, per immedesimarmi un po' in questa giuntalia che sta dietro i canali tutti, che si ceda da questo anonimato e fa, vabbè, lascio perdere Voglio dire una cosa, allora, così proprio un passant, perché non c'è niente da fare in questo momento Sto per accendere la tv e mi sto guardando una serie tv, Netflix, bellissima, e poi vi darò il titolo Così almeno non c'è rischio spoiler Volevo dire una cosa, che la Cerva Nera, inutile che fa post e scrive Peppa Pig mi hai tolto un video, tanto era solo uno short, solo quello puoi fare Ma quanto sei bugiarda? Era un video, non era uno short Ti illumino un attimino le idee Gli short non si possono segnalare Ma quante cavolate dici? Da uno a infinito e oltre Poi, un'altra cosa, ragazzi, veramente Cioè, ma Francescona, ma veramente fai, ma veramente eri così disperata Che non vedevi l'ora di farmi live contro Scrivevi post su post e vedevi che io non ti cagavo di striscio E tu cosa hai fatto? Invece di limitarti a fare un post e dire Io mi dissocio da Eva e Chiara Che poi, tra l'altro, nessuno vuole essere associato con te, se è ben chiaro Questa cosa No, lei non ha fatto il post Le diceva a fare la live Perché se non fa la live Non fai soldini È vero? E poi non si può comprare i cerchietti Non puoi fare la beneficenza Ah mio, ci crediamo tutti Comunque, comunque, detto questo Veramente molto, molto triste e patetica Tutta questa storia veramente squallida Addirittura, no ragazzi, non vi faccio spoiler Perché farò una live Farò una live Bella, simpatica Dove ovviamente rimetterò al suo posto la Francescona E a quell'altra di Soriano Cioè manco per il bip Cioè proprio, cioè veramente Ah, ti faccio un piccolo spoilerino Ti ho mandato un altro strike Adori? Eh, ma non sai su quale te l'ho mandato TikTok, TikTok, TikTok Quale sarà il video? Eh, 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 eh Uno al giorno Leva Letters di torno Mi piace così, eh A voi mi piace Così molto A caso Mandare Cioè A caso Che non sa qual è il video Così non può correre i ripari Ma Quando Li verrà Comunicato Il video Verrà tolto Ragazzi Che sia per privacy Che sia per copyright Eh Non dovevi assolutamente Andare oltre Hai fatto Uno schifo in mane E mi spiace Io non sono Francescona Che pur di fare live contro me O Eva Passa sopra Lo stesso figlio E se ne frega Degli auguri di Mo Che gli sono stati rivolti Nessun audio Nessun audio è stato tagliato Ci sono pezzi interi Proprio in quella live Che noi abbiamo scaricato Dove dice Le peggio schifezze E io da queste due Veramente Se hanno fatto la fusione Hanno fatto il super schifo Non mi interessa Mi dovete lasciare in pace Non dovete rompere le scatole Né a me Né a Eva Né a nessuno Parlate di voi stessi Guardate che successo avete Il nulla cosmico Io veramente sono stanca Live Non ho proprio voglia Di perdere tempo Ma domani farò una live Perché è duverosa Vi devo spiegare alcune cosine E nulla Cari utenti Ci vediamo domani Come una live Ciao Ciao Ciao